70 iscritti del comitato e centinaia di firme sono già state raccolte in pochi giorni. È iniziativa una raccolta fondi per sostenere tutte le iniziative. L'avvocato a Piuschiassi ha chiesto al tenuto insieme al comitato una riunione con la missione comunale. Un progetto di recupero di un vecchio manufatto agricolo dismesso da anni riconvertito in una porcillaia da mille suini a pochi metri dalle abitazioni e da un'area naturalistica. I residenti di Casa Sola, frazione di Maiano, non ci stanno e passano la contromossa. Difesa dell'ambiente, sicurezza qualità della vita e della salute, disagi e danni derivanti. Lo stesso, pressando l'amministrazione comunale, non demorde sulla sua battaglia utilizzando tutti gli strumenti disponibili secondo le norme vigenti. Al momento non si possono introdurre gli animali, non ci sono le autorizzazioni. Se entrano suini verranno sequestrati. È stato chiesto al sindaco di far seguire un'analisi dell'aria per la salubrità dei odori e l'attuale presente. Tutte le perizie fatte da ARPA, FWG, aziende sanitarie e altri enti parlano chiaro sui rischi dell'apertura dell'attività sui Nicola. Le contraddizioni via via espresse dal proponente non sono mai state fornite sufficienti rassicurazioni sulle preoccupazioni manifestate. Non si può escludere l'insorgenza di situazioni di molestia aufattiva presso i recettori che alla fine di evitare insorgere di problemi in futuro di difficile gestione. La modifica proposta sia da considerare non percorribile. Entro questo mese abbiamo...